Il binomio per me è una perfetta armonia tra due esseri viventi che collaborano insieme e che si capiscono. Il binomio è assolutamente l'affinità che si crea e che c'è tra cavallo e cavaliere. Poi i cavalli li vedo come i miei noffidanzati, però compagni proprio io. Qual è la tua definizione di binomio? Come se tu pensassi per il cavallo e il cavallo pensasse per te. Dobbiamo capire un altro essere vivente che non parla. Oddio, bella domanda che mi hai fatto. E avere un feeling che parte principalmente da terra e da rispetto nel confronto dell'animale. Io quando salgo su lei mi sembra così di stare sulle gambe mie. È il risultato di tanti sacrifici, di tanta attenzione, di tanta passione, di tanto amore. La complicità tra l'essere umano e l'animale in questo caso. Giusto? È una caratteristica del nostro sport che coniuga le capacità tecniche di un uomo insieme alla qualità atletica di un cavallo si mettono insieme. Quando c'è l'accordo diventano un tutt'uno e c'è il risultato. Il binomio è... Sovra!